Una sconfitta in dolore per la classifica, il Taranto resta con 5 punti di vantaggio sulla zona dell'etrocessione, a Crotone finisce 1-0 gol di Crialese al minuto 5 e 3-5-2 il Taranto. Qualche novità all'inizio della partita tra i rosso-bluionici, infatti in panchina va Ferrara, gli esterni sono Mastro Monaco da un lato e Boccadamo dall'altro. Al quinto, come detto, il gol del Crotone con una punizione dai 35 metri di Cricot, Traversa, Crialese è più lesso di tutti a insaccare il gol del definitivo 1-0. 25esimo, ancora il Crotone, punizione da parte di Petriccione, pallone di poco alto sopra la Traversa. 31esimo, ancora il Crotone che sfiora il gol con Gomez all'interno della area di vigore, riceve un pallone alla lunga distanza, Vannucchi devia in calcio d'angolo. 36esimo, risposta del Taranto vicino al pareggio, angolo, sponta di Antonini per la testa di Bifulco da due passi, Branduani fa il miracolo. L'azione migliore del Taranto nel primo tempo è forza di tutta la partita. Nella ripresa ancora il Taranto, 55esimo, è sempre il Taranto, con Tomassini, pallone all'interno della area di vigore, tiro che viene smorsato da parte di Romano, Branduani allora para. Dopo la girandola delle sostituzioni, al 72esimo si fa vedere il Crotone con Tribuzzi di testa altissimo. 76esimo, doppia occasione per il Crotone, prima è Vannucchi, bravo a rispondere alla botta dal limite di Derrico. 85esimo ancora il Crotone con Cernigoi, Chiricò libero in aria, ma quest'ultimo spara alto. Ancora il Crotone ci prova, al secondo dei 5 minuti di recupero, con Derrico, botta sicura, Vannucchi. E ancora una volta miracoloso, finisce 1-0, ma il Taranto è vicinissimo alla salvezza. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.